Ed eccoci qua, siamo in India, siamo a Surat e siamo davanti alla porta della Ozone Diamond, una prestigiosa taglieria di diamanti, la quale ci ha ospitati collaborando con noi, l'Istituto Gemmologico Genovese, per mostrarci l'intero procedimento di taglio del diamante. Ora avarcheremo la soglia di questa porta per poter vedere come vengono tagliati i diamanti. La prima fase del processo di taglio consiste nello scanning. Lo scanning è la scansione esterna della pietra e avviene grazie allo strumento che vedete nelle immagini. La pietra viene dapprima scansionata solo in superficie, per vedere esattamente tutti gli spigoli presenti. Perché è importante? Per evitare di sprecare alcune parti della pietra grezza, è necessario andarla a scansionare, per capire quanti diamanti si possano ricavare da un solo grezzo. La seconda fase del processo di scanning consiste nel galaxy. Il galaxy è la scansione, questa volta interna della pietra, effettuata per individuare la posizione delle inclusioni all'interno del grezzo. Come vedete da queste immagini, durante questa fase è possibile andare a vedere le inclusioni interne della gemma, per poter poi eventualmente scartare le parti troppo incluse e quindi utilizzare solo le parti migliori. A questo punto inizia il vero e proprio planning, la fase di progettazione in cui si decide come trasformare grezzo nel più alto valore economico possibile. Finalmente possiamo vedere quante gemme si possono ottenere dal diamante grezzo, perché normalmente da un diamante grezzo si possono ricavare due o più diamanti grezzi da sfaccettare e lucidare. Grazie a questo software elettronico si riesce a capire come utilizzare al meglio il grezzo, con la massima precisione che solo un software moderno può garantire. Adesso invece possiamo vedere in queste immagini che viene utilizzato un altro strumento, il laser, per poter avviare il procedimento di marking. Il procedimento di marking consiste nel segnare sul diamante alcune linee tramite il laser. Le linee serviranno come guida nella prima fase di taglio, nella quale il diamante verrà sezionato per poterne ricavare due o più grezzi da sfaccettare in seguito. Ora portando con noi questa pietra possiamo trasferirci in lapideria, dove i sogni diventano realtà. Finalmente siamo riusciti ad arrivare qui, dove i tagliatori professionisti rimangono a lungo seduti, a due a due e su un banco per economia, poiché se si usa lo stesso disco in due si risparmia sia spazio che dischi. A questo punto inizia il primo vero processo lapidario, che viene chiamato doping, nel quale la pietra viene incementata a un piccolissimo bastoncino, il DOP, il quale permette di spostare e ruotare agevolmente la pietra. Grazie all'utilizzo di una microtelecamera e una falsa linea sul display, è possibile incollare la pietra in posizione perfettamente dritta. Ricordiamoci che una gran parte delle pietre che arrivano in India, per essere tagliate, sono di piccole dimensioni, quindi si lavora con gemme che mediamente misurano meno di un centimetro di diametro. Una volta incollata la pietra sul doping, viene inserita in questo forno, che grazie al calore va a solidificare il cemento con il quale è stato incollato. Adesso parte il procedimento di brooting. Il brooting è il processo di arrotondamento del diamante. Inquadrato perfettamente dalla microcamera azionata dal tecnico, in questa fase vengono create delle linee tonde, che formano un cerchio dentro il quale deve rimanere il diamante, affinché assuma una forma perfettamente tonda, senza eccessiva perdita di peso. Se viene eseguito un brooting fuori centro, il diametro del diamante diminuirà assieme al peso della gemma. L'arrotondamento della cintura del diamante è importantissimo e viene da sempre sorpegliato da un tagliatore esperto. Fino a vent'anni fa il brooting è sempre stato eseguito forzando un diamante contro l'altro. Infatti il brooting tradizionale era un processo spesso interrotto dal tagliatore, il quale si doveva assicurare frequentemente che le due pietre fossero ben centrate. Attualmente l'intero processo dura circa 30 secondi, prevede una perdita di peso minima ed è utilizzato per arrotondare anche i tagli dalle forme a fantasia. Finalmente la pietra arriva ai lucidatori, già messa nel tang, lo strumento con il quale la si preme sul disco, onde creare le faccette. Il procedimento può durare anche per 3 o 4 ore consecutivamente, prima di far venire alla luce le prime precise faccette. Questo macchinario non è altro che una fotocamera che permette di filmare questa pietra a 360 gradi dopo averla posizionata su un piedistallo. Il filmato viene eseguito per vari scopi, in primo luogo per controllare che le sfaccettature e la lucidatura siano avvenute nel migliore dei modi, e in secondo luogo per vendere la pietra. Poiché un video ad altissima definizione del diamante invoglia il cliente in maniera maggiore. Tanto più che il video può essere caricato su un sito web mostrato ai clienti che potranno vederlo dal vivo. ed ecco la pietra lucidata sul monitor di questo computer, mentre viene filmata in diretta. Finalmente nel laboratorio gemmologico della taglieria, nel quale possiamo osservare questo professionista gemmologo intento nel certificare il diamante, dopo averlo accuratamente analizzato, in particolar modo dopo aver graduato le 4C del diamante, ovvero sia il colore, color, la purezza, clarity, la caratura, carrot, e il taglio, cut. La pietra non ha ancora terminato sul lunghissimo viaggio che è partito dal mantello della terra molti milioni di anni fa per giungere in questa attrezzatissima taglieria indiana. Alle volte di chissà quale fortunato proprietario. Da questo momento verrà commercializzata come una pietra per investimento o per gioielleria. Quindi possiamo dire che il gioco non è ancora finito. Non possiamo sapere quante persone la maneggeranno ancora, in quali paesi finirà, quante volte sarà rivenduta e comprata. Ma sicuramente sappiamo che l'incredibile durezza del diamante rende questo viaggio interminabile. Grazie a tutti. Grazie a tutti.